Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Silenzio tombale e noi poveri voyeur compulsiamo, vinti e delusi, sul profilo dei Ferragnez che rimane muto. Le stories di Chiara Ferragni sono immobili come quando si blocca lo streaming di Dazon. Niente. Instagram non va. Nessun segnale. Morto. E nel suo caso pensi ci sia come minimo un attacco nucleare in corso visto che ci ha abituato a essere accesa giorno e notte. Il pollice si muove frenetico in attesa di un'epifania che non c'è, la Madonna delle Influencer non si fa vedere nemmeno alla vigilia di Natale, che pure dovrebbe essere il suo periodo. Altro giro, altro profilo. Sia mai che a Fedez gli è venuta l'isprazione. Eccolo. Eppur si muove. La foto è anche qui di famiglia, come per lei, ma in bianco e nero e si apre ma non rimane ferma. Si anima. Lui è tornato a postare. Ben tre storie. Ma non c'è notizia, parla del suo podcast Muschio Selvaggio che al momento ci interessa meno di zero. Perché a noi interessa altro. Vorremmo conoscere il loro umore, sapere quello che si dicono, capire cosa faranno, perché in fondo è nei momenti di difficoltà, qui di crisi nerissima, che finalmente ci possiamo sentire uguali a loro perché per il resto viaggiano in una stratosfera di soldi e successo che noi umani possiamo solo invidiare e guardare. E quindi qual è il modo per uscire da un danno di immagine che ha mandato in pezzi lo specchio in cui riflettersi? In questi casi la soluzione migliore è trovare l'uomo adatto, un signor Malausene, come il personaggio inventato da Daniel Pennac che di professione fa il capro espiatorio. Pianga, Malausene, pianga in modo convincente. Si ha un buon capro si sente ripetere dai suoi datori di lavoro prima di ogni nuovo incarico. Pare di vederli Chiara Ferragni e Fedez e guardarsi intorno, chi è il sacrificabile? La mamma è sempre la mamma, la tata vale troppo poco, bisogna puntare in alto, e allora si girano tutti verso Fabio Maria D'Amato. Uomo potentissimo in casa Ferragni e sa partire dal 2017, lui è general manager di The Blonde Salad, la società nata dall'omonimo blog e di Chiara Ferragni Collection, lui si è ritagliato anche il ruolo di consigliere di fiducia per gli outfit di lei, lui è quello che l'influencer definisce il suo braccio destro e sinistro. L'unico modo per uscirne è dare la colpa a qualcun altro. Perché le scuse in grigio con il labbro che si increspava e l'occhio inumidito dalle lacrime sono state un zerrore di comunicazione madornale. Pensava di uscirne. Voilà, ecco a voi un milione di euro e pandori come prima, laica manetta. Invece ci ha pensato Selvaggia Lucarelli a riportarla sulla terra, ricordando che quella del pandoro non è stata l'unica operazione commerciale poco chiara. C'erano pure le uova di Pasqua. E allora che si fa? Ci vuole Malausene. Il colpevole con la C maiuscola. Per pena che era un uomo buono, qui c'è bisogno di un cattivissimo, un avido attaccato ai soldi, che chiudeva contratti senza mettere troppo al corrente Chiara Ferragni. Potrebbe essere lui la persona giusta, pare, se ne scriveva in tempi non sospetti, che Fedez e Fabio Maria D'Amato non si siano tanto presi. Chissà. Intanto la saga eterna Fedez Codacons continua e il cantante dovrà rispondere del reato di calunnia ai danni dell'Associazione dei Consumatori. Ma anche qui ci interessa meno di zero. Maledetti. Instagram continua a non muoversi.